Buongiorno ragazzuoli, amanti della musica e non, domenica 7 marzo 2021 si è conclusa questa notte la 71esima edizione del Festival di Sanremo, un'edizione che come tutti sapete rimarrà nella storia perché è la prima e speriamo che sia l'unica anche, adesso si svolta senza pubblico, quindi senza la giusta coreografia, la giusta cornice di pubblico, bellissima la scenografia del Festival con la quale si è cercato naturalmente di sopperire a questa grave lacuna, speriamo fa dieci anni quando rivedremo queste immagini di Sanremo senza pubblico, insomma che siano immagini d'epoca diciamo che non si ripetano mai più perché sarà veramente una prova pesante anche per noi spettatori, vedere in che condizioni siamo a causa dell'emergenza sanitaria legata al covid. Amadeus e Fiorello hanno superato indenni la loro prova e mi vado a leggere, ora è stata la classifica finale, fino tardissimo il Festival, veramente troppo tardi, oltre le due, due e mezza, quindi sicuramente è un qualcosa da rivedere nel meccanismo del Festival di Sanremo perché secondo me dovrebbe concludersi al massimo entro l'una, non si può chiedere alla gente di rimanere sveglia fino a questi orari, comunque andiamo a vedere la classifica finale, al 26esimo posto Random, torno a te, 25esimo Aiello, ora, 24esimo Bugo e invece Fi, 23esimo Joe Evan, Arnica, 22esimo Francesco Renga, quando trovo te, 21esimo Ghaemon, momento perfetto, non è stato proprio perfetto il momento di Ghaemon che è arrivato al 21esimo ma non importa, 20esimo Coma cose, fiamme negli occhi, 19esimo Gaia, Cuore Amaro, 18esimo Fasma, Parlami, 17esimo Lestroso, Max Gaget, il farmacista, 16esimo Fulminacci, Santa Marinella, 15esima Malika, Aiane, ti piaci così, 14esimo Noemi, Glicine, 13esimo Lo Stato Sociale, Combat Pop, 12esimo Extra Liscio e Davide Toffolo, Bianca Luce Nera, bello questo tipo, mi piace, 11esimo, la rappresentante di lista, Amare, ho detto, ma è possibile che non si poteva trovare un nome migliore per questa cantante, la rappresentante di lista, che è giocato di stupido a tutti i costi, non mi sembra che era anche questo nome, decima Arisa, potevi fare di più, la risa nel tempo è molto cambiata come personaggio, tutto sommato la preferivo all'inizio quando era molto estrosa, molto un po' sul comico, adesso sta maturando, sta indossando dei panni diversi, io tutto sommato la preferivo, ripeto, quella dell'inizio, preferivo quella dell'inizio, al nono posto una splendida Orietta Berti, che ha fatto veramente un figurone, quando ti sei innamorato, ha dimostrato insomma che, chiaramente l'esperienza, sapere stare sul palco in un certo modo, con un certo stile, una voce collaudata, ha fatto veramente una gran figura Orietta Berti, che ripeto, si è classificata nona, ottava Madame Voci, entriamo adesso nella zona calda, settimo posto per Annalisa, dieci, sesto Willy Peiote, mai dire mai, ottimo piacciamento, quinto di Rama, la Genesi del tuo colore, al quarto posto fuori dal podio, Colapesce di Martino, musica leggerissima, primi tre, al terzo, Ermal Meta, un milione di cose da dirti, al secondo posto, Fedez e Francesca Michelin, con Chiamami per nome, c'è stata un po' di polemica, perché la Ferragni, che è la moglie di Fedez, avrebbe, diciamo, rivolto un appello ai suoi fan, per votare Fedez, a Sanremo, naturalmente c'è stato chi ha fatto notare, che la Ferragni ha 23 milioni di follower, come faccia Ravelli, Dio solo lo sa, anche perché non mi sembra che i contenuti della Ferragni siano proprio così particolarmente interessanti, comunque evidentemente piace, è un personaggio che piace, complimenti a lei, ha saputo fare dei social, un lavoro, complimenti, quindi appello alla Ferragni, Fedez arriva secondo con la Francesca Michelin, hanno vinto i Maneskin, hanno vinto i Maneskin, primo posto per loro, 71esimo Festival di Sanremo per i Maneskin, con la canzone Gitti e Buoni, questo gruppo che ha detto, ci dedichiamo questa vittoria a quel professore che ci diceva, state zitti e buoni, state zitti e buoni, a forza di state zitti e buoni, i Maneskin hanno vinto Sanremo, ciao a tutti.